Un progetto didattico sull'educazione finanziaria nelle scuole della provincia di Sondrio. Ha preso il via l'iniziativa di alfabetizzazione economica promossa da Accredite Agricole e Feduf e destinata agli studenti delle scuole superiori. Il percorso è stato avviato mercoledì con i talk che hanno avuto luogo a Parma e Piacenza dal vivo e Sondrio e Catania con collegamento online con l'obiettivo di favorire una riflessione tra i partecipanti sulle nuove abitudini di consumo e uso del denaro in un'ottica di cittadinanza attiva e consapevole. L'evento è stato organizzato nell'ambito del festival dello sviluppo sostenibile. In provincia di Sondrio l'iniziativa ha visto coinvolti gli istituti Leonardo da Vinci di Chiavenna e Pinchetti di Tirano e ha rappresentato il secondo momento di attenzione rivolto alle scuole nell'arco di poche settimane. Credito Agricole Italia infatti aveva già incontrato lo scorso 28 aprile le classi dell'istituto Quadriode Simoni di Sondrio per raccontare l'attenzione del gruppo verso le nuove generazioni e i principi di diversità e inclusione.